Salve a tutti, ben ritrovati a questa nuova edizione di Chiasso News. Carissimi spettatori, oggi abbiamo il piacere e l'onore di essere collegati con il violoncellista Claude Haurie che domenica 12 giugno alle ore 11 si esibirà al Museo Vela di Ligornetto con altri due musicisti di altrettanto grande levatura, la soprano René Schüttengruber e il pianista Daniel Mose. Spero di averlo pronunciato correttamente. È correttissimo, sì. Benissimo, allora buonasera maestro, grazie di cuore per aver accettato l'invito di Chiasso TV. Dunque, io partirei subito con le domande perché domenica 12 giugno accompagnerete il pubblico in un percorso musicale che partirà dal 1785 con Mozart fino ad arrivare ai primi del Novecento con Korngold, un mattinè a dir poco interessante. Può darci qualche anticipazione in più sul repertorio che eseguirete? Certamente, è una mattinè un po' particolare soprattutto alle nostre latitudini perché è incentrato principalmente sul lead tedesco. Ha detto bene, inizieremo con pagine leaderistiche di Wolfgang Amadeus Mozart per poi passare dai sommi del lead, quindi Franz Schubert, Robert Schumann, Richard Strauss, Gustav Mahler per arrivare fino a Erich Wolfgang Korngold. Quindi un viaggio nel tempo in questa area tedesca che appunto è ricca di queste magnifiche pagine leaderistiche. Oltre a queste poi c'è una parte dove invece il violoncello e il pianoforte saranno protagonisti con per esempio le variazioni sul tema dal Don Giovanni scritte da Franz Tanzi e poi altre pagine brevi di Johannes Brahms e Robert Schumann. Bene, allora, le dico già che il nostro pubblico è particolarmente curioso quindi non si meravigli delle nostre domande. Allora, per leggere i vostri curriculum dovremmo dedicare una puntata a parte per ciascuno di voi. Quindi mi limiterò a chiederle ma come si sono incontrati tre personaggi del vostro calibro, come è nata la decisione di mettere insieme questo trio e come avete scelto il repertorio che proporrete al mattinè del Museo Vela? Dunque, con Daniel Moss io lavoro da moltissimi anni, da più di vent'anni. Daniel Moss ha lavorato parecchi anni all'opera di Zurigo, quale corepetitor e quale pianista di palcoscenico. Ed è in queste occasioni che ha sviluppato la sua conoscenza della musica vocale e anche delle cantanti e dei cantanti. Per cui, grazie a lui, che io stesso mi sono sempre più cimentato anche in programmi che prevedono la presenza di voci. René Schuttengruber è attiva da molti anni a Vienna, dove appunto ha ruoli primari nelle operette e Daniel la conosce da molti anni. Abbiamo già lavorato in questa formazione più volte e questa occasione del Museo Vela è certamente da cogliere perché appunto questo repertorio al sud delle Alpi si sente davvero molto raramente. Benissimo. Ora, se posso permettermi, vorrei porle qualche domanda tra il personale e il tecnico. Allora, quale emozioni si provano a poter suonare un violoncello del 1700? Perché lei ha un zanoli, giusto? Sì, che emozioni si provano? Diciamo che lo strumento è la propria voce. Si crea un legame estremamente stretto tra l'interprete e il suo strumento, tanto che se uno dovesse perdere, o insomma dovesse per esempio, come succede spesso, il dover ridare uno strumento a una fondazione che l'ha prestato diventa davvero un trauma. L'ho visto più volte nei musicisti colleghi, il dover ridare un violoncello è un po' come perdere la propria voce. È chiaro che ogni strumento ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità, le caratteristiche di uno strumento più antico sono quelle di un suono più morbido, più dolce. Lo strumento moderno spesso può avere più potenza, però forse meno calore. Ecco, è sempre un equilibrio che poi ognuno deve cercare in un lavoro incessante e quotidiano. Ecco, e qui guardami, lei ha anticipato un pochino la prossima domanda, perché proprio volevo chiederle, ma secondo lei la liuteria moderna è in grado di produrre strumenti, in grado di offrire le stesse sonorità di questi strumenti antichi sostanzialmente? Questa è una domanda molto intelligente, e non c'è forse una risposta univoca. Dunque, gli strumenti moderni chiaramente hanno uno svantaggio rispetto agli strumenti antichi, perché chiaramente il legno di uno strumento antico ha vibrato per molti decenni, molti secoli, e quindi ha un suono più morbido, più caldo. Bisogna tenere presente una cosa, lo strumento moderno viene costruito spesso con un legno stagionato per diversi decenni, quindi parte comunque già con un legno, se vogliamo, di 20, 30, 40, anche 50 anni. Questo è fondamentale, proprio per avere quella resistenza e per essere estremamente duro, proprio come legno. Le caratteristiche sono diverse, come dicevo, lo strumento moderno spesso ha o può avere una bella potenza, molto utile in sale molto grandi come si suona oggigiorno. Nel 700 certo non si suonava ancora in sale così grandi come oggi. Ci sono gli utai estremamente abili che riescono a costruire degli strumenti di altissima qualità anche oggigiorno, però certo uno stradivari resta uno stradivari. Con l'avvento, questa qui è una domanda un po' così. Allora, con l'avvento dell'era digitale, almeno nella musica commerciale, quella delle colonne sonore, eccetera, purtroppo si utilizzano sempre di più quelle sezioni digitalizzate, campionate, eccetera, eccetera, secondo me con grande danno, prima a chi dedica la propria vita alla sempre affascinante esecuzione live, perché altrimenti uno non avrebbe scopo di fare musicista. Però, secondo me, recadano anche al pubblico disabituandolo orecchio al suono reale. Secondo lei, dico una castroneria, ci può dire qualcosa in proposito? Beh, è una bella domanda anche questa. Dunque, intanto le campionature sono migliorate tantissimo negli ultimi anni. E addirittura si arriva a situazioni in cui un suono campionato può essere quasi meglio di una registrazione mal fatta, insomma. È chiaro che con la campionatura non si può fare tutto, può funzionare con un certo genere musicale, ma dipende tanto dall'utilizzo che se ne fa. Alla fine ci vuole comunque il musicista per tantissime situazioni, sia che siano in studio registrare appunto un disco, o comunque anche per quanto riguarda, ora penso alla musica leggera, il cantante ha bisogno comunque, o quasi sempre, una band con sé. La campionatura può sostituire tante cose, perde comunque un po' di quella, come possiamo chiamarla, di quella freschezza, di quella musicalità che solo l'interprete dal vivo può dare, o l'interprete diciamo reale. Quindi sì, viene usato forse spesso per motivi anche di costi, perché costa molto meno usare certe campionature, soprattutto adesso mi immagino un cantante rock che vuole avere una parte di archi come sottofondo, insomma per rendere un po' più dolce il tutto, usa spesso purtroppo suoni campionati. In realtà un orecchio molto attento lo sente, però è chiaro, costa molto di più avere musicisti in carne ed ossa piuttosto che usare suoni campionati. A parte il grande Ingui Malmsteen, che tassativamente vuole l'orchestra. Ma sì, ci sono molti artisti che comunque non useranno mai suoni campionati, però insomma c'è anche chi non se lo può permettere. Ecco, mi perdoni se mi sono lasciato andare un po' così a domande, però non ci capita spesso di avere ospite un musicista classico da poterne approfittare. Ecco, quindi io maestro la ringrazio per essere stato con noi. Tutto quello che abbiamo detto spero sia un eccellente motivo per invitare il pubblico a partecipare a questi straordinari concerti dal vivo. In primis perché, appunto come giustamente sottolineava lei, il genere che andrete ad eseguire a queste latitudini non è proprio roba da tutti i giorni, quindi conviene prima di tutto approfittarne. E poi, che dire, sentire un trio così penso sia assolutamente un'occasione da non perdere. Quindi grazie ancora per essere stato con noi. E, signori, domenica 12 giugno al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, il maestro Claude Haurie al violoncello, la soprano René Schüttengruber e il pianista che è tra l'altro anche organista, giusto? Anche sì, in questo caso sarà solo pianista. In questo caso sarà solo pianista, però è anche un valente organista, Daniel Mose. Per questa edizione è tutto, a ben rivederci alla prossima edizione di Chiasso News. Grazie.